Ciao e ben ritrovati sul canale. Nel video di oggi parliamo di chat GPT applicato alla SEO. SEO per cosa sta? Sta per Search Engine Optimization, ovvero l'ottimizzazione della ricerca relativamente ai motori di ricerca. Scopo della SEO è quello di indicizzare nel miglior modo possibile i vari risultati di ricerca. Quindi l'obiettivo di chi fa SEO è quello di indicizzare al meglio i propri contenuti. Contenuti che possono essere articoli di vario tipo, articoli di un blog, articoli di un sito web orientato alla vendita e quant'altro. Quindi l'obiettivo della SEO è quello di utilizzare delle tecniche particolari e un tipo di scrittura particolare che permette di elevare i propri contenuti nei migliori posti dei risultati di ricerca. Quindi preferibilmente in prima pagina su Google. Ovvio che quando parliamo di motori di ricerca principalmente ci riferiamo a Google, il principale motore di ricerca. Ecco, tutto l'insieme delle tecniche utilizzate per scalare i propri risultati in cima a Google fa parte della SEO. E noi vedremo come ChatGPT, questo strumento, ci può aiutare nella scrittura in ottica SEO. Scrivere in maniera tale, con degli accorgimenti, che i nostri contenuti riusciranno a migliorare la propria posizione all'interno del motore di ricerca a Google, come abbiamo detto, il principale. Quindi in modo che i risultati salgano sempre più in alto. Detto questo, vi lascio il video di oggi e, come sempre, vi ricordo che è uscito il mio nuovo corso su ChatGPT. Quindi se siete interessati a conoscere a fondo questo strumento, tutte le sue potenzialità, ChatGPT applicato al copywriting, al marketing, alla psicologia e a un sacco di altre cose, potete cliccare sul link in descrizione, li atterrerete sulla pagina di presentazione del corso e così potete dare un'occhiata. Ci sono anche dei video gratuiti in anteprima, così vi rendete conto un po' meglio dei contenuti. Bene, non mi dilungo oltre e vi lascio al video. Ciao! ChatGPT ci può essere di grande aiuto anche nella scrittura in ottica SEO. Ma cerchiamo di capire brevemente che cos'è la SEO per chi magari non conosce esattamente il significato di questo termine. La SEO sta per Search Engine Optimization ed è l'insieme di tecniche e strategie volte ad aumentare la visibilità di un sito web nei motori di ricerca, principalmente attualmente si parla di Google, migliorando il posizionamento delle pagine del sito sui risultati di ricerca. L'obiettivo qual è? È quello di aumentare il traffico organico del sito, ovvero il numero di visitatori che giungano al sito attraverso i risultati di ricerca, senza l'utilizzo di pubblicità a pagamento. Quindi, essere ottimizzati in ottica SEO significa comparire in cima ai risultati di ricerca in maniera del tutto gratuita. Viceversa, l'alternativa sarebbe quella di ricorrere al traffico a pagamento. Per questo solitamente si utilizzano entrambe le strategie, la SEO e ovviamente il traffico a pagamento. E quindi, la domanda è come posso scrivere in ottica SEO? Scrivere in ottica SEO significa selezionare una certa keyword e in maniera strategica riportarla all'interno del testo che vogliamo scrivere. Vediamo subito un esempio. Vediamo appunto come ChatGPT ci è utile in questo scenario. Allora, devo scrivere un articolo per il mio sito in ottica SEO. Il titolo, scegliere il colore di una cravatta. E attenzione, la keyword da indicizzare è cravatta. Ed è importante specificare questa cosa, perché così lo strumento andrà a scrivere un testo avendo come accortezza l'inserimento in maniera strategica, più volte, della keyword cravatta. Se noi non specifichiamo che vogliamo scrivere in ottica SEO e soprattutto non specifichiamo la keyword, otterremo un articolo ben scritto ma non ottimizzato per la SEO. Abbiamo già visto nella sezione per ChatGPT per copywriting come si può utilizzare lo strumento per scrivere un articolo di un blog, ma adesso ci troviamo nella sezione ChatGPT per il marketing, quindi vogliamo scrivere in ottica SEO. Ecco un possibile articolo per il tuo sito web in ottica SEO sul tema Scegliere il colore di una cravatta con la keyword da indicizzare cravatta. Titolo, scegliere il colore di una cravatta. Vedete come cravatta innanzitutto è ripetuta nel titolo? Questa è una strategia SEO, ma la vedremo tra poco. La cravatta è un accessorio fondamentale per ogni uomo che voglia vestirsi a modo elegante, eccetera. Ma come scegliere il colore giusto per la propria cravatta? Vedete quante volte già compare comunque il termine cravatta? Nel titolo dell'introduzione, due volte, cravatta e cravatta, nel primo paragrafo soprattutto. E poi abbiamo una suddivisione in... Abbiamo un elenco numerato che aiuta la leggibilità. E anche questa è una strategia in ottica SEO. Tra l'altro notare che il primo paragrafo di questo primo elenco puntato presenta la parola cravatta. Stessa cosa per il secondo. Il colore della cravatta. Il colore della cravatta ancora una volta. E andiamo avanti. Qui ci si dà tutti i suggerimenti. Quindi scegliere il colore. Considera il colore della tua carnagione. Non esigerare con le fantasie. Considera la stagione. E la conclusione in cui viene ripetuta ancora una volta la parola cravatta. La domanda a questo punto è. Perché è scritto in ottica SEO? Come posso capirlo? L'articolo è scritto in ottica SEO perché contiene la parola cravatta che è stata indicizzata e quindi favorita per la sua posizione nei risultati di ricerca dei motori. Inoltre l'articolo è stato scritto tenendo in considerazione alcune best practice SEO come presenza di parole chiave nei titoli e noi l'abbiamo visto nei sottotitoli e nel testo stesso. La presenza di un titolo accattivante e di un contenuto utile, di qualità per l'utente. La presenza di un'organizzazione del testo in paragrafi. Questo l'abbiamo visto, vedete? Ci abbiamo tutta la suddivisione in paragrafi. E poi l'utilizzo di parole chiave di supporto come consigli utili, occasione, carnagione, stagione e fantasie. Tutte queste tecniche aiutano a migliorare la visibilità del sito sui motori di ricerca rendendolo più facile da trovare per gli utenti interessati al tema della cravatta. E io qui insisto ancora, mostrami esattamente i punti in cui si agito in ottica SEO. Certamente, titolo. Il titolo, scegliere il colore di una cravatta, contiene la parola chiave cravatta che è il focus dell'articolo. Vedete come ce lo spiega bene? Scegliere il colore di una cravatta ovviamente contiene la parola chiave cravatta. Poi abbiamo il keyword placement, ovvero la parola chiave cravatta è stata utilizzata più volte all'interno dell'articolo sia nel testo che nel sottotitoli per indicizzare il contenuto di questa keyword. Ed è vero, abbiamo visto quante volte compare già nel primo paragrafo la parola cravatta. Poi abbiamo l'utilizzo di parole chiave di supporto come consigli utili, occasione, carnagione, stagione e fantasie per mostrare attenzione ai motori di ricerca che l'articolo copre diversi aspetti relativi alla scelta del colore delle cravate. Molto importante. La struttura del testo, poi in paragrafi ben strutturati, sottotitoli, liste puntate per rendere il contenuto facile da leggere e per far sì che gli utenti possano trovare le informazioni di cui hanno bisogno in modo rapido e intuitivo. E poi la qualità, ovviamente non deve mai mancare la qualità del testo. Queste sono solo alcune delle tecniche SEO utilizzate nell'articolo. A questo punto, altra prova, scrivimi un altro articolo in ottica SEO. Scegliere questa volta il materiale, non il colore, della cravatta. Keyword sempre cravatta. Anche qui vedete? Scegliere il materiale della cravatta. Consigli utili per trovare la cravatta perfetta. Addirittura qui la ripete nel titolo due volte la keyword. Poi la ripete subito nel primo paragrafo. E poi ancora, suddivisione in elenco, in base ai vari materiali, miscela dei materiali, conclusione e ok. E anche in questo caso i punti in cui si agita in ottica SEO, ovviamente il titolo, le keyword placement, l'utilizzo di parole chiave di supporto, la struttura, la qualità del contenuto, ovviamente, e i link interni e le immagini che lui ci suggerisce, ma che non ci mette lui perché non può mettere immagini o link, ma noi lo possiamo fare. Quindi copiando l'articolo andremo ad aggiungere alcuni link interni e includere delle immagini di alta qualità. Ok, cos'è la SEO? L'abbiamo già visto. Adesso un altro esercizio. Ci potrebbe essere richiesto da un cliente, oppure anche per i nostri progetti personali, di prendere un articolo che non è stato magari scritto perfettamente in ottica SEO e di trasformarlo in ottica SEO, migliorarlo secondo le tecniche della SEO. Ecco che io ho preso un articolo a caso. Scegliere la cravatta giusta, 4 suggerimenti. Vedete, questo è un articolo abbastanza breve. E io cosa ho fatto? L'ho copiato e gli ho detto di riscriverlo in ottica SEO. La keyword è sempre cravatta e gli ho incollato esattamente tutto l'articolo. Vedete? E lui, certo, ecco il testo, riviste in ottica SEO con la keyword cravatta. Scegliere la cravatta giusta, 4 suggerimenti per valorizzare il tuo outfit. Il titolo vediamo se ha cambiato. Vedete, è stato cambiato? Scegliere la cravatta giusta, scegliere la cravatta giusta, 4 suggerimenti e lui aggiunge per valorizzare il tuo outfit. La cravatta è un accessorio essenziale per l'uomo di successo, che dona uno stile curato e professionale, eccetera. Lui lo riscrive, vedete, perfettamente tutto. Allora gli chiedo, dove hai agito un'ottica SEO? Ecco alcuni esempi. Ho inserito la keyword cravatta nel titolo e nel testo dell'articolo per indicizzare il contenuto. Ho usato la keyword cravatta in modo naturale nel testo, ho utilizzato i sottotitoli, ho utilizzato parole chiave semanticamente correlate alla parola chiave principale, come tessuto, abbigliamento, tagli e colori, per ampliare il campo semantico. Vedete che accortezze? E ho scelto un tono conversazionale chiaro, evitando troppi termini tecnici o complessi. Allora gli chiedo rispetto, fammi degli esempi reali, mostrando le differenze rispetto all'originale. Ecco un confronto tra il primo paragrafo dell'articolo originale e il primo paragrafo riscritto in un'antica SEO. E questo è molto interessante perché vediamo proprio le differenze. Originale. Una cravatta di un bel tessuto è sicuramente l'accessorio più elegante da indossare per esaltare l'outfit di un uomo di successo. Nelle occasioni formali, infatti, la cravatta dona uno stile curato e professionale, che risalta e completa la figura dell'uomo. Riscritto. La cravatta è un accessorio essenziale per l'uomo di successo, vedete, è cambiato anche di molto, che dona uno stile curato e professionale in occasioni di eventi formali o meno. Esistono molti tipi di cravate, da quelle eleganti in seta a quelle più trendy in lana o cashmere. Ma come scegliere la cravatta giusta? Vedete, queste sono le differenze. Come puoi vedere, nel testo riscritto in attica se ho utilizzato la parola chiave cravatta nel titolo e nel primo paragrafo, ovvero nel titolo e nel primo paragrafo. Ho inserito la parola chiave in modo naturale, ho anche utilizzato parole chiave semanticamente correlate come accessorio, uomo di successo, vedete? Accessorio, uomo di successo, stile curato, professionale, ok? Per ampliare il campo semantico, infine ho utilizzato un tono più diretto e coinvolgente, ponendo una domanda retorica, vedete, addirittura. Ma come scegliere la cravatta giusta per stimolare la curiosità dell'utente, infatti? Ma come scegliere la cravatta giusta che non era presente, vedete, nel testo originale? Bene, con questo video abbiamo visto come ChatGPT ci può essere molto utile per la scrittura di articoli e testi orientati alla SEO, alla Search Engine Optimization.